Ciao amici e amici e benvenuti a Redding, dove c'è un nuovo artiste sotto la scuola. E' britannico, è orgoglioso, è piccolo. Dopo mantenere la promessa fatta a Redding Chronicle, non si parla alla ristorazione delle Bunksy, che paga l'homaggio a Redding con quattro altri lavori. Prima Bob Ross, a cui ho dedicato il video precedente. Poi, a Redding Bridge, un uomo britannico sorrondito da tre angeli e decorato con l'installazione delle rose artificiali. Nella scuola primaria, un bambino e un cipanzì sorrondito da bambini. E finalmente, alla biblioteca Caversham, una piccola raggiunga la bambina. P.C. ha confessato a me che non vuole rivelarmi il significato dei miei lavori, così che tutti potrebbero trovare la interpretazione personale. P.C. ha confessato cosa pensate sulle arti di P.C. in descrizione di commento sotto. Press like e subscribe al canale. Grazie! 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 Grazie!